In queste ore il sindaco di Pescara sta firmando la nuova ordinanza per quanto riguarda gli orari della Movida. Non sono previste sostanziali variazioni rispetto a quello che è stato fino ad oggi direttore. Ma come sta andando la stagione e come state vivendo questa estate, così come è stata particolare lo scorso anno? La situazione è diversa anche rispetto ai settori di interesse. Piazza Muzzi, la Movida ha una situazione trasversale, qualcuno ha retto, qualcuno ha lavorato anche più e qualcuno meno, frutto anche delle diverse tipologie di attività. È ovvio che questo valore lo dobbiamo contestualizzare a mesi e mesi di chiusura, per cui noi abbiamo chiesto intanto di prolungare l'orario attuale, cioè sempre le due, che poi è quello che abbiamo chiesto a giugno e soprattutto abbiamo chiesto relativamente a quella zona un tavolo con i rappresentanti del condominio rappresentato tranquillamente a Battisti per definitivamente tirare una linea e trovare delle condizioni per consentire a quelle attività che devono poter lavorare in tranquillità, così come anche i condomini, e troveremo sicuramente una quadra. C'è invece una situazione drammatica al centro storico. Noi stiamo incontrando giornalmente le attività, lì il 30% delle attività hanno già chiuso e faremo sicuramente un progetto, un piano di relaggio che a settembre consegneremo al Comune. La situazione invernale è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo perché è fondamentale non trasmettere idee eventuali di chiusura, eccetera. È passato un anno e mezzo, tutti hanno fatto quello che devono fare, le attività devono essere coscienti che possono investire, non possono avere sul collo il rischio chiusura come è stato l'inverno scorso.